Oggi riprendiamo la rubrica fatti e misfatti e mi è venuta in mente di fare questo video perché ieri navigando su facebook ho trovato questo annuncio che promette in soli 21 giorni di fare di voi dei super pianisti ora la cosa mi ha fatto molto più sorridere che arrabbiare perché anche i miei tempi si vedevano in edicola, i famosi corsi chitarristi in 24 ore eccetera eccetera quindi questa roba da questo punto di vista come dire non c'è niente non c'è niente di nuovo però la costituzione che vorrei fare con voi è di due tipi una strettamente musicale e una a respiro un po più ampio quella musicale molto semplice se siete dei dilettanti e uso l'aggettivo dilettanti nell'accezione più pura più più etimologica anche c'è chi fa musica per diletto per il piacere di farla e quindi non perché la propria professione quindi se questa è la vostra la situazione va benissimo fate questo corso fatene mille altri insomma e cercate nell'inter il possibile sfruttare al meglio il vostro tempo libero per ottenere risultati migliori che che potranno farvi avere del diletto quindi del divertimento quindi del piacere dal far musico insieme se invece ambiti a diventare i professionisti beh insomma potremmo anche smettere di parlare qui sapete benissimo che questo come qualunque altro percorso che vi prometta non solo di far di voi dei virtuosi ma di riuscirci attraverso una serie scorciatoie beh sapete bene che è una vagianata clamorosa evidentemente non esiste un corso un insegnante o qualunque altra cosa al mondo che possa fare in pochi giorni di voi un virtuoso dello strumento visto che parliamo visto che parliamo di uno strumento o che possa fare di voi un super compositore o qualunque altra cosa perché per fare questo lavoro professionalmente ci vogliono fondamentalmente tre cose la costanza l'impegno il duro lavoro e l'esperienza e la fortuna potreste dirmi voi beh sì certo in certi casi c'è anche la fortuna in certi casi se si ha la buona sorte di essere la persona giusta al momento giusto buon per voi no può essere quello l'inizio di una carriera e c'è nonostante se poi a questa fase iniziale di fortuna non corrisponderà l'impegno la costanza eccetera eccetera una carriera non verrà costruita farete qualcosa e poi vi fermerete e le altre situazioni l'avere un grosso sponsor l'avere le raccomandazioni che spesso mi chiedete esistono le raccomandazioni in musica certo che esistono come in qualunque altro campo però il punto è che mediamente si possono raccomandare solo quelli bravi e quando non vengono raccomandati quelli bravi difficilmente questi qua andranno lontano cioè faccio un esempio se il mio figlio da grande volesse fare l'attore magari potrei andare un amico produttore un amico regista e gli senti mi dai una mano per mio figlio ma gli facciamo fare magari una particina un qualcosa per cominciare eccetera eccetera probabilmente lui mi darà questa mano e quindi probabilmente mio figlio riuscirà come dire magari ad avere più più facilità a iniziare quella carriera rispetto a quanto potrebbe avere una persona che non ha questo questo vantaggio ma detto questo se poi mio figlio non saprà recitare la seconda terza volta che andrò a chiedere il favore l'amico produttore l'amico regista mi dirà ciccio sei simpatico ti voglio bene ma tuo figlio è un cane rognoso non me lo direbbe in questi termini evidentemente se mi troverà il modo ma poi insomma se sono un minimo obiettivo io anch'io saprò vedere o non vedere in lui un certo tipo di talento e a questo proposito altra domanda e il talento allora il talento serve è ovvio che serve do per scontato che se volete fare i musicisti professionisti abbiate quel minimo di talento necessario a poter fare questa questa cosa insomma ecco questo lo do lo do per scontato ma ciò non toglie che potresti anche non avere un talento strepitoso quindi non diventerete mai probabilmente dei mostri sacri del vostro settore ma ciò non toglie che come un talento normale una normale predisposizione possiate fare una carriera normale e anche soddisfacente però questo discorso che ho fatto sulla musica in realtà mi porta a una considerazione più ampia e cioè che vedo troppe volte in internet la tendenza a trovare la scorciatoia io lo so bene che in qualunque settore parliamo in quello di quello artistico in generale ma insomma non è che negli altri sia tanto diverso c'è un enorme quantità di persone che vuole fare determinati lavori e la verità è che non c'è posto per tutti però da questo a pensare che ci siano dei maghi che abbiano il segreto il segreto per farvi fare per far riprendere scorciatoie questo assolutamente diseducativo ma soprattutto è fuorviante perché non funziona così cioè come detto prima non esiste un sistema che farà di voi dei grandi pianisti siete di pianisti scarsi se non studiare tanto tempo non 21 giorni forse 20 anni magari un po di meno ma tanto 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 impegno e poi c'è un mila altri settori con corsi che vi promettono di riuscire a fare i doppiatori o gli attori o i presentatori televisivi o vi dico modelli e modelle insomma tutto questo però non tramite l'impegno e la preparazione ma banalmente tramite il trucchetto e questa cosa cosa cela al di sotto cela il fatto che io ti sto dando il metodo per riuscire in meno tempo e meno sforzi se non accetti questo metodo sei stupido cioè passa il concetto che non fare come quei poveri idioti che si invece si rompono la schiena o le dita sullo strumento no quali stanno sbagliando completamente tutto ma lascia stare non parliamo poi di mille guru del trading online no che ti dicono che in due mesi guadagnerai decine migliaia di euro e avrai l'aeroprivato l'elicottero e tutte ste cavolate qua ragazzi e mi rivolgo veramente ai ragazzi vi prego spero che non siate così sprovveduti da credere a queste panzane quando non si tratta di truffe vere e proprie che poi sfociano anche magari nel penale non credete a questi guru credete piuttosto in voi stessi credete nel lavoro duro il lavoro duro alla lunga paga sempre non vuol dire che darà a tutti gli stessi risultati e non vuol dire che darà a due persone di identico valore gli stessi risultati perché poi ci sono mille altre cose mille altre questioni che possono entrare in ballo il carattere la perseveranza la capacità di reggere lo scontro la capacità di prendere le porte in faccia la capacità di sentirsi dire di no senza affliggersi per cui in conclusione ragazzi io lo so che voi siete antenati con i social e che quindi credete che sia normale quello a cui assistiamo quotidianamente da anni cioè vedere sui social degli scappati di casa senza alcun talento alcuna preparazione chiama la pena sono in grado di dire il proprio nome con milioni di follower e allora il concetto che passa è io che sono scappato di casa che non valgo niente eccetera eccetera mi immedesimo in quello che è scappato di casa quanto me che che al talento che io c'è niente però se ce l'ha fatta lui allora ce la posso fare anch'io non è così non è così innanzitutto perché a volte ci siamo anche delle delle fortunate coincidenze che valgono per uno e non per gli altri milioni che seguono e poi comunque bisogna vedere anche questa presunta fama quanto dura nella maggior parte dei casi dura una manciata una manciata di mesi o poco più raramente questi questi soggetti poi hanno l'intelligenza o le basi o la preparazione per fare altro nella vita perché a un certo punto ovviamente come dire la loro bolla si esaurirà e o saranno abbastanza in gamba da sapersi riciclare in un altro settore oppure verranno rifagocitati dal nulla da cui sono arrivati per cui occhio ragazzi non ci cascate grazie 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 grazie